Allora ragazzi oggi voglio coprire un aspetto che mi viene chiesto spesso e che so che risolverà parecchi problemi come esportare chiavi private da Exodus e importarle in un altro wallet compatibile con la chiave privata che stiamo esportando l'esempio che prenderò sarà esportando una chiave privata su asset Ethereum quindi esportando chiavi private Ethereum su MyEtherWallet un esempio classico ad esempio quando vogliamo muovere i nostri asset abbiamo ricevuto un airdrop non possiamo vedere i token oppure abbiamo partecipato a un ICO abbiamo dei token su un indirizzo Exodus non ce li fa vedere vogliamo vedere se questi token sono effettivamente visualizzati in un wallet ERC20 compatibile e quindi vogliamo vederli listati se appunto li abbiamo ricevuti Prima nota controllare sempre che si abbia Exodus all'ultima versione c'è sempre una release si fa sul sito ufficiale e si scarica l'ultima release questo è importante per prevenire soprattutto attacchi sulla sicurezza e poi ci sono nuovi asset che vengono caricati su Exodus secondo punto come si fa a fare a estrarre le chiavi private perché il primo passo è quello di estrarre le chiavi private abbiamo in epilogo non c'è bisogno che lo dica ma ogni wallet ha una chiave pubblica l'indirizzo pubblico a cui inviamo e la chiave privata che è il vero asset cioè quello che contiene effettivamente i nostri token o i nostri coin se siete su windows dovete premere per accedere al menu developer ctrl shift d e vedrete che vi appare un menu particolare da quale potete fare una selezione io sono su mac su mac basta andare adesso vi faccio vedere come basta andare su Exodus e in alto a destra troviamo Exodus a fianco alla mela c'è developer e una volta che andiamo su developer abbiamo nostri asset da cui possiamo selezionare ethereum da ethereum possiamo fare esporta chiavi private una volta che si sono esportate chiavi private molto simile anche su windows si preme ci chiede sei sicuro perché ovviamente questa è un'operazione delicata è un'operazione che potrebbe compromettere il nostro asset i nostri valori quindi faccio sono sicuro che cosa succede che si è creato un file mi crea un file sul desktop di tipo csv in questo caso adesso per comodità cioè per privacy andrò a coprire parte degli indirizzi ma apriamo il nostro indirizzo pubblico e la nostra chiave privata adesso vi faccio vedere subito su myether wallet che il corrispettivo possiamo subito verificarlo andiamo a vedere su view wallet info e lo andiamo a aprire solo con l'indirizzo pubblico quindi in questo caso non c'è nessun pericolo stiamo solo visionando un indirizzo ho 0.59 ethereum esattamente il quantitativo che vedevo qui sul mio exodus adesso se io volessi vedere se ho dei token potrei già farlo da qui in realtà potrei vedere se ho ricevuto i token senza neanche esportare la chiave privata e vedo che su questo indirizzo ho degli atlant che comprai un anno fa in ICO e sono su questo indirizzo qui degli Xenon che probabilmente mi sono stati inviati tramite airdrop proprio perché avevo particolare quella ICO e tanti altri che non sapevo neanche di avere e sono tutti listati qui su questo indirizzo quindi anche su questo basterebbe fare così e vedere quali token sono presenti sul mio indirizzo ethereum se invece voglio muovere questi token ho la necessità di entrare effettivamente tramite questa interfaccia myether wallet o altre nel mio wallet come fare a questo punto io vorrei dire che devo fare un invio un invio di token quindi send ether and tokens devo sbloccare il mio wallet quindi andrò su private key questo è il modo più insicuro e più pericoloso per sbloccare il myether wallet io consiglio sempre invece di andare tramite ledger però in questo caso noi dobbiamo fare un'esportazione di chiave privata e quindi dobbiamo entrare tramite la chiave privata come si fa? sempre da quel file che abbiamo creato e che abbiamo esportato abbiamo qui anche il balance ce lo dice vado a copiare la mia chiave privata e la vado ad inserire qui private key sempre nella voce send ether and tokens la vado a copiare e vado a sbloccare il wallet mi raccomando state sempre attenti che siate sulla pagina ufficiale controllate sempre sia myether wallet, ink, us io consiglio sempre comunque di salvarla nei preferiti questa pagina qui così non correte rischi a questo punto qui ho sbloccato e nella selezione ho i token che sono presenti qui posso vedere la lista se non ci sono quelli che abbiamo visto ne carichiamo altri appunto facendo add custom token questo lo sapete come si fa e da qui posso muovere ad esempio posso muovere questi lrc selezionandoli e send entire balance ne ho 5 e posso inviarne 5 adesso ho completo accesso a quelli che sono i token del wallet questa è una procedura semplice di esportazione di chiave privata ad esempio da un exodus che non è un wallet che supporta token ERC20 ossia non li fa visualizzare l'address li riceve questo per rispondere alle tante domande di questo genere voi ricevete se avete un indirizzo ethereum tutti i token che si basano su blockchain ethereum ma tanti wallet non li fanno visualizzare un ERC20 compatibile come myether wallet vi dà la possibilità di visualizzarli e anche muoverli quindi accedendo tramite la vostra chiave privata avete completo accesso a quelli che sono i vostri asset vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti